salve a tutti questo è un tutorial molto articolato su come si installa e configura wine asio allora il driver chiamiamolo così driver wine asio serve per poter poi installare attraverso wine un software o un synth che è inattivo per windows ed essere visto attraverso jack e poter interagire con una taschiera mini per esempio allora premesso che è complessa la cosa quindi state attenti alle cose che faccio perché saltare un passaggio e non funziona niente allora mio mi apro synaptic perché la cosa più semplice da fare per installare la ricerca che farò è semplicemente asio nel frattempo che sta cercando vi dico è già tutto installato da me quindi non sto installando realmente allora wine asio amd64 perché il mio pc è amd64 e quindi gli ho messo questa versione penso che su linux i driver siano 64 e 32 bit anche se poi alla fine il software che andrò a installare è un banalissimo 32 bit quindi voi scegliete la versione che vi interessa cliccate vi propone installare i pacchetti collegati fate l'installazione è finito lì l'installazione poi dopo quando avete installato il driver dovete digitare wine io trovo configurazione di wine la cosa interessante è che io ho lasciato qua ho messo windows 7 credo che sia l'impostazione più corretta nelle librerie dovete cercare qua in lista e wine asio e fare aggiungi allora il sistema abilita una libreria in più poi dopo che avete fatto questa cosa qui aprite un terminale e adesso che lo faccio vedere bene perché questo è un comando quindi meglio che ve lo faccia vedere alte rotellina con l'ingrandisco e così vedete bene wine 64 spazio reg sbr 32 wine asio dll comando similare per chi ha 32 bit è solo preg sbr 32 wine asio dll fatto questo non avete finito e sembrerebbe banale dovete aprire se avete installato il mio sistema è quello che fa aprire jack audio in automatico con cadence dovete aprire cadence allora cadence adesso io posso troppo qui mi fai and Io sulle connessioni di Jack non vedo niente di strano, ovviamente non vi sto a dire scaricatevi il vostro sit per Windows, installatelo facendo doppio clic perché partirà con Wine e farà l'installazione del vostro sit, poi quando avrete il sit installato potrete farlo partire. Io ho installato il sit che si chiama PRO53, eccolo qua, allora quando l'ho installato io sono andato subito su audio e in settings e i vostri sit potrebbero essere un po' diversi dal mio, perché ogni sit potrebbe avere dei pannelli diversi, ma l'importante è che gli si dà un'interfaccia di audio e direct sound, un input e un output corretti e poi qua la latenza è per fare in modo che il suono, il tasto e esce fuori il suono dopo 10 minuti, veramente ci può arrivare anche a questi livelli se si può stare la latenza male, quello che è importante è abilitare o disabilitare qua, e io l'ho detto solo, abilita in input interface Wine, alza output e USB, cioè la presa USB che è collegata al mio pianoforte, poi gli ho messo come output il client PDQ jack e come output gli ho messo ancora la taschiera, come output anche Wine, alza input, questi glielo ho messi così, poi faccio ok, lavorando in questo modo il mio Synth Pro 53 aperto, non vedo niente qua, cioè non ho un qualcosa da dover impostare, una voce da dover abbinare a qualcos'altro per farlo girare, perché sembra che giri da solo, infatti adesso, ho premuto il Synth e sta suonando, quindi in qualche modo sta suonando, però, se io spreco e suono sulla tastiera, il mio Synth sta suonando attraverso il drive a video, un'altra cosa fichissima è che il mio pianoforte ha i tasti avanti e dietro per cambiare suono, e cambiando suono da tastiera cambia il suono in Synth, e non vedo niente qua, Ok, a parte questa roba penosa che vi ho fatto sentire che sto suonando, adesso gli ho solamente installato un Synth semplice, so che questo Synth è semplice da installare, non ha casini con la compatibilità in Wine, e funziona, quindi con questo sistema che ho usato io, ho potuto testare che WineAsio sta funzionando, e più avanti conto di installare Synth incasinatissimi da installare, che hanno anche procedure complesse nell'installazione, sperando che Wine supporti quel Synth, perché qua ci sono due cose insieme, prima di tutto Wine deve poter installare correttamente il programma e farlo aprire, se Wine fa questa prima fase, allora può funzionare la seconda, cioè WineAsio, che abbiamo appena visto che funziona, quindi non provate subito con programmi incasinati, provate con un Synth base, in modo che sappiate subito che il Synth si apre, e provate a configurare WineAsio, se volete replicare il mio tutorial, e non ci riuscite per qualche motivo, ditemelo che magari posso essere stato in alcuni punti poco chiaro, e posso darvi una mano per risolvere il vostro problema, o se vale la pena, integro con un altro tutorial per spiegare quello che magari mi dite, che sono stato troppo poco chiaro. Per questo tutorial è tutto, arrivederci al prossimo. Grazie a tutti per aver guardato il video,